Spiego come usare il prodotto nuovo. Prima di tutto prendi la bottiglia del prodotto con il plasma e lo sciacqua bene, bene, ok. Dopo versa una quantità in un barattolo, in un bicchiere. Io ho messo abbastanza adesso perché lì c'è il capello lungo e le faccio anche un piacerino. Ecco, la stessa quantità, un po' meno, dell'ossigeno. Un po' meno. Ecco, fatto. Tutte e due mischiati. Allora lo metti tutto insieme in uno solo. Una volta fatto quello si mette tutte e due in un solo barattolo. Ok. E agita. Puoi anche mettere dentro un barattolino con il tappo e agitarlo così. Bagna il capello, è ben bagnato. Dopo si versa il prodotto abbondante qui e comincia a fare il lavoro, tipo come se fosse un massaggio. Vedi, da per tutti i capelli. Dalle punte fino alla radice, eh, dalle radice fino alle punte. Bene, bene. Frissiona bene sulla radice così. Bene, bene, bene. Fa così fino alle... Si mette il shampoo due volte, sia il sapone per il piatto e poi il balsamo. E basta. E basta.